La polizia ha concluso le indagini tecnico-scientifiche sull'omicidio di Maria Zarba avvenuto a Ragusa lo scorso 11 ottobre. Gli inquirenti non hanno più dubbi. Ad uccidere la donna è stato l'ex marito Giuseppe Panascia, che si trova già rinchiuso in carcere con l'accusa di omicidio colposo aggravato. L'esito delle analisi eseguite sulle tracce di sangue trovate sul tappetino della macchina e sugli indumenti che l'uomo indossava al momento del fermo ha confermato tutti i sospetti che già da subito erano ricaduti sul pensionato. Dall'ascolto delle persone informate sui fatti era evidente che i due ex coniugi avevano un rapporto conflittuale. La donna da circa un anno chiedeva al marito di separarsi, ma nonostante la separazione legale, Panascia continuava a frequentare l'abitazione coniugale. Solo la notte andava a dormire dall'anziana madre. L'uomo non accettava la separazione e le discussioni sul pagamento delle quote mensili concordate in sede di separazione era motivo di accese discussioni. L'indagato era stato individuato dopo meno di 30 minuti dal rinvenimento del cadavere fatto dal nipote della donna. La ricerca delle tracce del reato è durata settimane con più sopralluoghi. Fondamentale il lavoro della sezione biologica della scientifica e del reparto cinofili di Palermo, attraverso il quale è stato possibile rilevare tracce di sangue non percettibili ad occhio nudo. Oltre alla sostanza ematica trovata sul tappetino dell'auto con la quale Panascia era andato via dalla casa dell'ex moglie, inequivocabili le tracce di sangue repertate sugli indumenti indossati dall'uomo che aveva dichiarato agli investigatori che si trattava di macchie di couscous, il suo piatto preferito, che aveva cucinato nei giorni precedenti. Le indagini della squadra mobile e gli accertamenti della scientifica hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. L'uomo, nel pomeriggio di giorno 11, dopo l'ennesima discussione con la moglie, avrebbe iniziato a colpirla con un oggetto che non è stato ancora individuato, alle spalle, mentre la vittima guardava la televisione. La donna avrebbe cercato di difendersi in tutti i modi, ma l'efferatezza dell'aggressione non le avrebbe lasciato scampo. L'uomo probabilmente si sarebbe cambiato gli abiti, ma si sarebbe nuovamente sporcato in maniera impercettibile, pantaloni, maglione, camicia e perfino le maglie dell'orologio. Grazie alle analisi è stato possibile accertare con assoluta certezza che il sangue trovato appartiene alla vittima. La squadra mobile ha depositato adesso un'informativa conclusiva sulle attività di indagine che sarà valutata dal PM prima e dal giudice competente dopo.